Ciao amici di Piazza Affari, oggi non volevo dirvi niente di che, sono qui con Leo e con Gianluca al rifugio della Faggeta sopra Brallo. E cos'è che volevo dirvi? Niente, volevo dirvi che se voi siete in città e avete tempo e volete venire in mezzo a questa fantastica natura, venite su al passo del Brallo dove trovate anche Piazza Affari Estate, vero Leo? Sì? Sì? Vero Gianluca? Sì! Sì? E venite a comprare, non so, una maglietta, venite a comprare una polo, una camicia oppure venite semplicemente a salutarci che a noi fa sempre piacere e poi vi fate una passeggiata come stiamo facendo noi qui in mezzo alla natura, eh? Altro che aperitivo, altro che... guarda qua, come dice il mio amico Joe, va che roba, eh? Gio, dove sei? Lui è un esperto, eh Giovanni, lui dice sempre, uè, va che roba, Nino va che roba, e qui è uno spettacolo perché siamo venuti a fare un girettino in mezzo alla natura dove ci sono gli uccellini, ci sono i leprotti, ci sono tutti gli animaletti, ci sono anche i cinghiali, ci sono, eh? Non li abbiamo ancora visti però, va bene, noi proseguiamo la nostra passeggiata rilassante e voi se riuscite venite su al Passo del Brallo, ok? Ciao, salutate ragazzi! Ciao! Saluta Leo! Leo? Niente, Leo è preso, dov'è? Leo? Stai dormendo? Ciao a tutti! Ciao! 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 Ciao!